Nuovo giorno, nuovo punto sulla politica, lo faremo oggi naturalmente partendo dal territorio allargandoci poi anche a quella che è la prospettiva nazionale, lo faremo in compagnia di Carmela Rescigno consigliere regionale del Lega, nonché presidente della commissione antica morra della regione Campania alla quale va il nostro bentrovata, buongiorno e buon anno. Buongiorno. Dunque consigliere io partirei, insomma sono tanti i temi di cui vorrei disquisire con lei oggi e di cui vorrei conoscere il suo pensiero, partirei proprio da quello che è con tema di autonomia differenziata che oramai divide, è un tema divisivo e che è ancora oggetto del dibattito pubblico e anche del dibattito politico ma c'è anche la questione relativa al terzo mandato di De Luca e ancora lo scontro del governatore De Luca proprio nei riguardi della Meloni di cui leggo in virgolettato, c'è un tema molto particolare di cui si sta discutendo in queste ultime ore ovvero De Luca, riferendosi alla Meloni dice che la stessa ha detto che non ci sono i soldi ma non c'erano in realtà neanche tre mesi fa in campagna elettorale se non ci fossero soldi non si darebbero 800 milioni alle società di calcio dunque io vorrei conoscere il suo pensiero di merito proprio su questi punti partirei dal tema dell'autonomia differenziata Sì, allora è chiaro che la posizione del governatore De Luca e del suo partito, che è il Partito Democratico è una posizione tutta ideologica, il loro è un no ideologico perché ricordiamo che già nel 2019 fu proprio il governatore De Luca a chiedere autonomia in determinati settori quindi io credo che lo stesso presidente della regione di Reggio Emilia anche lì voglio dire è chiaro e evidente che ci sia una posizione solo ideologica Mi permetta se la interrompo perché in realtà il dietro fronte di De Luca sarebbe avvenuto poi solamente dopo un mese rispetto all'incontro con Calderoli perché avrebbe avvisato una modifica all'interno proprio della borsa Calderoli quindi si parlerebbe in questo momento proprio di una guerra politica all'autonomia Allora, ma perché De Luca non si siede e chiede al di là del no ideologico che discute dell'argomento? Aveva, quando lo ha fatto con Calderoli avevano trovato un'intesa anche perché Calderoli era stato chiaro, dice è una bozza ed è aperta e quindi parliamone, discutiamone il problema prima erano i LEP, una volta superato e definito la questione dei LEP oggi non si capisce bene quale sia il problema La verità è una sola, è che finalmente l'autonomia darà, restituirà meritocrazia alle regioni e quindi le regioni avranno la possibilità di diventare più virtuose e diciamo di accantonare un po' il sistema clientelare che invece è esistito e ha retto fino ad oggi Il secondo punto, ecco perché invece a merito a questo, secondo il nuovo disegno per De Luca l'autonomia non rappresenterebbe più invece una prospettiva positiva per il studio della campagna Lei invece mi dice tutt'altro? Ma assolutamente, l'autonomia non divide l'Italia, anzi dà l'opportunità alle regioni virtuose e fa sì che venga accantonato il sistema clientelare Andrei sul secondo punto, conoscere appunto il suo pensiero e merito per quanto riguarda invece il terzo mandato di De Luca c'è proprio la visione di italiani il quale dice stop al terzo mandato di De Luca perché in questi anni in realtà il governatore non avrebbe governato bene È veramente così? Ha governato così male il nostro governatore? Ha governato, quando si governa è evidente che ci siano dei settori dove si riesce a fare meglio altri dove si riesce a fare poco e male e quindi la questione non è analizzare l'operato di De Luca perché è sotto gli occhi di tutti come ha governato in questi anni Il problema è il terzo mandato Allora, io sin dall'inizio ho sempre precisato la mia posizione in merito al terzo mandato Io credo che non ci debba essere una legge che vieta il terzo mandato perché la sfida va data e va offerta ai cittadini sono i cittadini che devono scegliere non è una legge che vieta se deve essere bocciato De Luca deve essere bocciato dai cittadini per cui per me va bene anche il terzo mandato ma che poi sia diciamo Siano i cittadini a decidere Siano i cittadini a decidere come è giusto che sia in una democrazia Restando ancora su De Luca il terzo tema di cui vogliamo conoscere perché appunto di queste ultime ore lo scontro del governatore proprio con la Meloni in merito appunto a quanto detto dalla stessa non ci sono soldi ma in realtà dice che questi soldi non c'erano neanche in campagna elettorale e se in realtà non ci fossero non sarebbero, non verrebbero date 800 milioni alle società di calcio il suo pensiero in merito qual è? Il mio pensiero in merito è che questo governo che da subito si è messo al lavoro è ereditato una situazione certamente non facile non dimentichiamo che il centrodestra sta governando nel periodo penso più critico in assoluto della storia della nostra nazione e credo che la manovra finanziaria e le decisioni di questo governo siano il massimo che si sia potuto fare rispetto a quello che si è ereditato Il massimo che si poteva fare però possiamo dire anche con lei commentare questo aspetto ovvero il fatto che il 2023 si è iniziato per gli italiani in una maniera non totalmente positiva fra rincari e anche inflazioni il governo come dice lei sta facendo quello che può però io le chiedo se poteva invece lo stesso fare qualcosa in più per ragionare la situazione economica almeno per restituire un po' di speranza e di ossigeno gli italiani che per appunto hanno iniziato questo anno nel peggiore dei modi Allora non poteva fare più di quanto ha fatto però la speranza comunque gli italiani possono viverla perché è chiaro che insomma abbiamo appena iniziato a governare con delle manovre messe in campo oggi in prospettiva ci sarà la speranza di tempi migliori Tempi migliori anche per quanto riguarda il rincaro benzina perché in realtà spaventare gli italiani appunto questo rincaro notevole esorbitante il governo aveva promesso su questo aspetto un cambio di marcia un cambio di marcia che in realtà non vi è stato e quindi quali potrebbero essere le aspettative? Potrebbe esserci ecco una inversione di rotta? Potrà esserci ma non in questo momento Adesso si è fatto quello che si poteva ma in futuro vivremo tempi migliori Tempi migliori per vivere questi tempi migliori gli italiani e tutti quanti noi stiamo facendo molto affidamento a quelli che sono i fondi del PNRR è una grande sfida quella del 2023 che naturalmente lo stiamo dicendo tutti i giorni consigliere ha una scadenza una scadenza che deve essere rispettata oltre la quale se nulla si è fatto nulla si potrà fare oltre quindi sicuramente un'opportunità da non perdere riusciremo a vincere questa sfida? Il governo riuscirà a vincere la sfida del PNRR? È un'opportunità unica che il governo non si può consentire di non cogliere per cui credo che ci sia un governo adeguato per vincere la sfida In questo caso la Premier vorrà avrà intenzione di negoziare il PNRR e siamo nei tempi giusti? Che vada rivisto qualcosa è condivisibile ma questo non significa perdere l'opportunità ma solo migliorare l'opportunità dei fondi PNRR Iscriviti al PNRR